Marco Rizzo, per la prima volta a Vibo, non d'avversario. Sì, per la prima volta a Vibo è sicuramente una bella emozione giocare in questa realtà che conosco da anni. Sì, torno al sud e dopo qualche anno ho vissuto al nord, soprattutto nella società Brianzola, sono carico per iniziare questa stagione. Io Manuel, il coach, l'ho conosciuto a Molfetta dove vincevamo pure il campionato, quindi fu un'annata veramente molto bella e molto intensa. Ci sono tutti i presupposti per lavorare bene sia di squadra che personalmente. Ci sono degli obiettivi in cui ne ho già parlato con lui e sicuramente potremo migliorarli. L'organico è abbastanza giovane e penso che io, Baranovic, anche Mengozi potremmo dare una grossa mano a questi ragazzi che affrontano per il primo anno il campionato di Superlega, che non è semplicissimo, quindi dovremmo fare quadrato e creare un bel gruppo perché secondo me ci possiamo divertire. Oggi assapori per la prima volta il calore della piazza di Vibo, una piazza sicuramente che in qualche modo ti appartiene perché è del sud come te. Sì, motivato, entusiasta e davvero contento di poter prendere e toccare con mano più che altro quello che sarà poi quello che viverò durante la stagione. Per cui vedo e conto il numero di persone che sono venute oggi per questa presentazione e sono davvero entusiasta di vedere questo attaccamento, anche la simpatia di questi tifosi. Spero che con loro si aprirà da subito un connubio importante e che possiamo regalare a loro, alla città di Vibo e alla Regione Calabria, il massimo dei risultati possibili di questa stagione. Sarai tu la spalla di mister Cichello, quindi lavorerete di pari passo insieme, vi conoscete già, questo può essere un motivo per lavorare ancora meglio? So di lavorare con un professionista tutto tondo e non posso che da oggi assicurargli tutta la mia disponibilità, il mio entusiasmo, la mia motivazione nel voler far bene e tentare in qualsiasi modo di raggiungere quelli che sono gli obiettivi preimposti e naturalmente preorganizzati. Ce la metteremo tutta quanta, sia noi dello staff che naturalmente i giocatori individualmente, per arrivare ad un successo importante che magari non sarà quello dello scudetto, ma vincere il nostro scudetto ce la metteremo tutta.